Namaste, io sono Ace Brave, benvenuti al report settimanale su quello che sta succedendo sul canale e possiamo fare un po' di ragionamenti su come sta andando iniziamo dalla pagina Social Blade che è un po' un'introduzione niente male perché possiamo vedere come stanno andando le visualizzazioni e come stanno andando gli iscritti abbiamo un aumento costante di iscritti che mi fa molto molto piacere dovuti al fatto soprattutto della collaborazione con Fab che mi ha dato appunto questo boost non da poco di 150 iscritti e poi questi 30 iscritti costanti giornalieri che non fanno mai male quindi appunto una decina, ventina, trentina a seconda della giornata stanno arrivando sul canale quindi benvenuti a tutti quanti e arrivano per vedere Isaac molto probabilmente anche se ci sono tante 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 serie sul canale però mi fa molto piacere questa cosa ci stiamo attestando sulle 3000 visualizzazioni giornaliere e se andiamo a vedere le visualizzazioni appunto da questa parte vediamo effettivamente questa è la zona di gennaio possiamo vedere anche la crescita appunto che abbiamo avuto anziché vedere le cose singole vedete che siamo intorno al 150% costante cioè rispetto alla fase precedente stiamo aumentando fondamentalmente e non è niente male se vediamo anche questa sequenza di 7 giorni vediamo un aumento niente male insomma nel corso del tempo vedete che abbiamo aumentato nel corso del tempo adesso siamo abbastanza costanti sulle 22.000 che è la somma delle ultime 7 giornate in questa maniera qua che non è niente male e questa cosa è in realtà un aumento lo stesso anche nell'ultima settimana perché nell'ultima settimana sono usciti 3 video anziché 4 perché non ho messo il video delle prime serie sarebbe stata la serie di Super Punch Out perché sto aspettando di fare quello che è l'episodio del documentario relativo i primi 3 episodi in realtà Metaslag 1 e 2 che sono già usciti le serie ma devo ancora fare la puntata del documentario e poi appunto ci sarà Super Punch Out che pubblicizzerà quella che sarà l'uscita poi della serie effettiva un'altra volta beh cosa devo dire sono molto contento del fatto che ci siano tante visualizzazioni mancano un po' di giorni come potete vedere perché questo è il 20 gennaio oggi è il 22 gennaio in realtà quindi mancano i dati di ieri dati che purtroppo sarebbero interessanti da vedere ma non possiamo ancora vederli possiamo vederli un po' qua che non è male però questa deve ancora aggiornarsi bene cosa vi mostro? se vedete qua sotto vedete il dettaglio di come stanno andando i video nel mese di gennaio il video più visto è quello con Fab ed è molto molto bello che succeda è uscito il terzo episodio sul suo canale e il round 4 ci sarà sul mio canale tra molto poco perché l'ho finito di montare finito di renderizzare devo caricarlo e lo caricherò stanotte perché esca lunedì come potete vedere Afterbirth Plus è la serie più vista in assoluto il primo episodio di Reigns come sempre i primi episodi delle serie sono più visti del resto dell'episodio perché ci sono diverse motivazioni in molti guardate il primo episodio poi vi stufate e quindi non vi piace il gioco e non lo guardate quindi il primo episodio ha più visualizzazioni del resto della serie esempio lampante è Front Mission Front Mission ha 900 visualizzazioni neanche tante di solito il primo episodio mi supera sempre le 1000 ma in questo caso no e poi dal secondo episodio c'è un calo incredibile delle visualizzazioni perché fondamentalmente non vi interessa perché questo è un canale che propone tanti contenuti e non a tutti interessano questo tipo di contenuti molti invece mi hanno anche scritto questa cosa nel senso che si vedono magari il primo episodio della serie e poi aspettano che la serie venga conclusa per poter ritornare a vedersi la playlist quando e come vogliono ed è questo forse il bello anche di Youtube perché non esistono fondamentalmente serie vecchie ma semplicemente esistono serie pubblicate un po' di tempo fa ma non sono vecchie perché l'unica cosa che le può secondo me determinare come vecchie è o lo stato del gioco però che magari è stato aggiornato più avanti oppure la qualità e la qualità è rimasta costante nel tempo per me per anni ormai quindi non credo ci siano serie vecchie fondamentalmente le serie che sono vecchie qualitativamente sono quelle di Metaslag 1 e 2 per dirvi che sono le primissime che ho fatto ormai un sacco di anni fa come potete vedere anche Metaslag comunque ha avuto le sue 800 visualizzazioni che non è niente male per essere una serie che ho registrato ancora nel 2000 e ho pubblicato nel 2010 credo di averla registrata 10 anni fa tranquillamente perché appunto il documentario che voglio fare è per festeggiare i 10 anni del canale e 10 anni di attività su YouTube per la prestigione non del canale perché il canale questo è stato fatto nel 2013 quindi sapete insomma tutto quello che mi è successo col canale che mi è stato chiuso il vecchio eccetera ma non sto a dilungarmi su quello parliamo di che cosa succede un altro esperimento che ho voluto fare questa settimana sapete che io ogni tanto li faccio perché poi vi do i risultati all'interno di questi episodi ho pubblicato l'episodio 11 Delirium della serie di Afterbirth Plus alle 20 anziché alle 16 e ho avuto 200 visualizzazioni in più questo può essere dato dal fatto che ha un titolo particolare perché Delirium è il boss finale di Afterbirth Plus il boss nuovo quindi il nuovo contenuto quindi magari qualcuno è stato attirato dal titolo oppure è semplicemente una questione di orario che vi piace di più alle 20 io la serie di Afterbirth Plus la facevo alle 20-21 scusate la serie di Rebirth e Afterbirth la facevo alle 20-21 ed era una c'è questa cosa insomma di vedersi l'episodio della sera che può essere utile volevo sapere appunto se voi avete visto quell'episodio perché è stato pubblicato alle 20 o perché era particolare il titolo vi interessava di più di quello perché effettivamente potrai considerare l'eventualità di spostare la serie di Afterbirth Plus dalle 16 alle 20 mi è stato già chiesto da qualcuno di voi e volevo insomma saperne che cosa ne pensate in modo da mettere magari nello slot delle 16 invece quello che sarebbe lo slot delle 20 che è quello un po' misto in questo senso perché dovrebbe esserci tutti i Let's Play vecchi il Let's Play Memories Redux e il documentario in più altre cose insomma mentre il weekend per adesso è sistemato con Dara Dundara Sneak Peek che stanno facendo visualizzazioni un po' basse anche se state contribuendo un po' di più c'è stato l'episodio di Milanoir che sono stato contento perché c'è un'intervista dentro che reputo molto molto interessante e insomma mi è stato mi fa piacere quando intervenite all'interno degli episodi e mi consigliate anche altri giochi mi avete consigliato di vedere The Universe Sim che però purtroppo non ho e ho provato a vedere dal sito eccetera non c'è una possibilità di avere una copia ma proverò ancora a cercarlo poi che cosa possiamo vedere possiamo vedere quelle che sono le schede le schede che ho iniziato a usare appunto da gennaio per consigliarvi dei titoli da votare ho voluto provare questa cosa anziché mettere il proponi un titolo perché so quanto cioè è più facile fondamentalmente per voi anziché pensare a un titolo andarlo a votare direttamente vi do è un po' il discorso della papa pronta nel senso che un click richiede molta meno creatività che scrivere un titolo completo anche se mi fa molto molto piacere questo è una cosa che mi stupisce ogni volta che che interagisco con voi perché effettivamente sotto mi mettete comunque anche dei titoli aggiuntivi rispetto a quelli che propongo io che mi richiede più lavoro fondamentalmente perché devo registrare episodi pensarmi a più titoli metterli online provare a realizzare queste schede ma è un bel po' di interazione che cerco di fornirvi insomma in modo che possiate contribuire vedete che la maggior parte di quelle che sono state le schede sono quelle di Reigns mentre in parte minore è quelle di Front Mission infatti l'episodio 1 appunto che è quello più visto di Front Mission è qua sopra ma in realtà c'è altra roba che l'ha sorpassato e tra l'altro devo aggiornarli questi titoli perché ultimamente non ho avuto tempo di farlo ma appunto li avete votati e li avete votati anche in abbastanza diciamo 10 no scusate 100 e dalle 50 alle 100 persone circa non sono niente male qua vedete sono 27% però perché è così in alto questo perché sono in ordine di click sulla scheda click sul teaser della scheda e click sulla scheda sono un po' diverse come cosa credo che il teaser fosse la playlist e il click sulla scheda invece fosse ah no ok questo vuol dire che vi siete accorti prima del teaser il teaser è quando viene fuori la scheda cioè a 6 minuti e 49 dell'episodio 5 viene fuori la scheda con il teaser da cliccare mentre questo è click totale sulla scheda quindi l'avete avete cliccato metà perché è uscito fuori dal teaser anzi no non metà in 100 perché avete cliccato sul teaser quando viene fuori e in 220 perché semplicemente cliccate la i di informazioni il che mi fa molto piacere perché vuol dire che ci state attenti a queste schede sta diventando una cosa utile e qua vedete appunto l'interazione con alti e bassi durante le giornate che corrispondono appunto con l'uscita degli episodi di race da una parte e gli episodi di front mission dall'altra quindi vedete degli alti e bassi poi degli scambi insomma di volta in volta e questo è probabilmente il weekend e poi appunto c'è di nuovo un lunedì martedì eccetera poi che cosa vediamo vediamo le condivisioni le condivisioni che sono abbastanza alte cominciano ad essere abbastanza alte ci sono alcuni alcuni picchi di condivisione quando sono usciti quelle sfide con After Ever Plus contro Fab e appunto ci sono un bel po' di cose e qua si vede anche effettivamente quando andate a vedere serie un po' più vecchie ad esempio c'è qualcuno che si sta recuperando XCOM la lunga guerra questo è un episodio Spacarmi è un episodio abbastanza recente in realtà però si vede un po' di 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 cosa uscevare ci sono condivisioni anche di video insomma che come questo qua che è contro il C contro il V che è una serie di un episodio solo per ora ma non penso di farne altre che è un video stravisto perché appunto riguarda una una denuncia diciamo una denuncia verbale anzi no non verbale perché non parlo neanche del video ha un video copiato appunto quindi l'ho fatto giusto per scherzarci su un pochino poi per quanto riguarda i commenti continuo a esserci una bella costanza insomma nei commenti che mi fa molto piacere tanti commenti al video che si chiama Entra nel Darkest Dungeon per poter partecipare a Darkest Dungeon e questo mi fa molto piacere poi vediamo come sono nelle playlist le playlist sono la maniera più importante per cui potete vedervi una serie completa e questo mi fa molto piacere perché io ci tengo molto alle playlist che vengono fatte bene e il sito internet che tra l'altro adesso è acethebrave.it forse non riuscite ancora a farlo perché devo ancora fare i collegamenti diciamo ma il sito effettivamente è acethebrave.it è da aggiornare eccetera ma sarà la maniera fondamentale su cui riuscite a trovare il materiale del canale senza problemi di feed senza problemi di nessun genere tutto lì e non avete nessun problema un problema che ho riscontrato con ad esempio il braveheart il braveheart è il sistema che avete per consigliarmi giochi nuovi che adesso ho anche trasferito su discord su discord c'è un canale specifico in cui avete la possibilità di votare tutti i videogiochi che mi avete proposto finora o meglio una parte cioè quella che mi avete proposto tramite braveheart e non altre vie di comunicazione potete votare tramite tramite mettete mettete l'iconcina di isaac nella mia versione come reazione di voto e appunto avete la possibilità di votare le future serie quello che mi sono accorto dal braveheart è che in molti mi avete chiesto fai una serie su questo gioco che hai già fatto ad esempio è capitato con un epic è capitato con banished che nonostante abbia fatto un video in cui dico posso fare un'altra serie di banished mi avete detto sì falla perché non l'hai mai fatta sono rimasto un po' così dalla cosa ogni tanto ci sono queste mosche bianche che intervengono un po' senza capire quello che è successo oppure mi avete consigliato insomma tanti tanti giochi che in realtà ho già fatto Rock of Ages dopo che l'ho già fatto c'è chi mi ha consigliato di fare Gothic e c'è già il let's play completo insomma ci sono tanti let's play che mi accorgo effettivamente bisogna andarli a cercare sul canale perché i video sono tantissimi sono oltre 2000 video e la maniera per aiutarvi il più possibile a trovare queste playlist è fare un sito con i controcoglioni in modo che possa darvi la possibilità di guardare tutto quanto e poi appunto abbiamo le schermate finali c'è un picco qua perché è il link al canale del bov team per potersi iscrivere che mi fa molto piacere perché è una bella collaborazione che sto avendo con bov una bella sfida facciamo anche una sfida tra virgolette di iscritti cioè voi andate di là a iscrivervi e da là vengono da questa parte che mi fa molto piacere perché più o meno facciamo lo stesso tipo di contenuto e anche con uno stile abbastanza simile per quanto riguarda la pacatezza diciamo nel registrare video e quindi mi fa molto piacere che siete andati di là a sopportare anche il suo canale perché è una persona molto valida che praticamente sta portando avanti un canale di 4 persone perché il bov team sono 4 persone da solo quindi mi fa molto molto piacere questa cosa e spero di continuare la collaborazione con lui per adesso più o meno abbiamo due episodi a settimana della sfida per adesso ne abbiamo registrati 4 quindi il quarto lo vedrete domani e poi settimana prossima magari ci troviamo facciamo due episodi di seguito per la settimana successiva che non è niente male come cosa perché effettivamente vi piace tanto Isaac tanto tanto Isaac poi cosa vi mostro vi mostro una piccola chicca diciamo per adesso che è quello che è il palinsesto questo è il palinsesto come lo sto gestendo io così ve lo posso spiegare direttamente non ho nessun problema con gennaio febbraio e marzo vedete c'è gennaio febbraio e marzo gli slot che ho che sono 14 16 18 20 e poi c'è una riga di live che è tutto un programma per adesso non lo sto usando perché fondamentalmente non posso fare live con il contratto internet che ho e come vedete sono gestiti con diversi colori io sono un ingegnere quindi mi piace tantissimo l'organizzazione fondamentalmente tutto ciò che ha numero ma non è colorato è bianco quindi sono video da registrare tutto ciò che è blu sono questi vlog qui settimanali e quindi non sono registrati ma questo appunto è l'episodio che sto registrando in questo momento e che vedrete subito dopo l'azzurro mi segna la fine di una serie e l'inizio di un'altra quindi devo decidere cosa mettere in questo slot e poi il viola non lo sto usando praticamente ma è un colore che mi sono aggiunto dovesse servire e lo usavo in realtà per Isaac perché il gioco doveva ancora uscire fondamentalmente adesso appunto il gioco è uscito quindi mi sono ho tolto il viola insomma da quelli e poi abbiamo il ciclo Rearus ho chiamato così R-E-R-U-S cioè quando registro un episodio diventa bordeaux quando lo monto su Vegas che è il programma che uso per montare che è un po' quello più semplice per quanto riguarda la quantità di video che faccio e anche perché mi permette di renderizzare in batch in cui io metto monto 10 video e li metto a renderizzare tutti e li renderizza uno di seguito all'altro poi lo lascio andare alla notte se la mattina ne ha fatti 6 su 10 poi è al 10% del settimo fermo e posso usare il computer di nuovo questo è il rendering quindi quando viene renderizzato quando viene caricato e quando viene schedulato cioè viene inserito il titolo viene programmata l'uscita viene messo la cover il thumbnail l'anteprima insomma del video e viene fatta le schede vengono fatte tutte le aggiunte insomma che servono per programmare il video quindi vedete avete i 5 status diversi diciamo di cosa faccio di un video a volte devo fare un doppio rendering nel senso che faccio un rendering e poi uso handbrake per poter rimpicciolire un po' la grandezza del file ma ultimamente appunto per il rendering che sto utilizzando mi permette di avere la massima qualità al minimo dello spazio e il che insomma è una cosa che mi interessa molto vedete che questo ad esempio questo quarto episodio qua in realtà devo metterlo arancione perché ce l'ho e semplicemente devo caricarlo e quindi mi aggiorno in questa maniera vedete che ci sono episodi di fino a conclusione per quanto riguarda Magic Duels che è una serie purtroppo che non state vedendo tanto ma posso capirlo insomma con l'ultimo episodio che andrà in onda il 22 febbraio dal 22 febbraio in poi ci sarà una nuova serie che comincia da questo episodio qui e ho già registrato tutto sono 11 episodi quindi andrà il 10 e l'ultimo episodio sarà l'inizio aprile che è la serie su Crash Your Enemies che è un gioco molto molto carino che vedrete tra un po' il primo episodio quando lo carico lo metterò non elencato in modo che possiate vederlo su tramite il link di Discord quindi se venite su Discord aspettatevi i primi episodi delle serie al momento a proposito di Patreon o comunque di contributi mi avete anche mandato delle donazioni quindi siete stati gentilissimi se volete cerco di ringraziarvi in qualche altro modo non so se volete essere ringraziati pubblicamente o privatamente questo lo decidete voi ma insomma so che mi sono arrivate delle donazioni quindi grazie 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 se volete farlo appunto i link sono qua in descrizione avete un sacco di maniere potete donare direttamente su Paypal donarmi giochi su Steam c'è la possibilità di partecipare al canale Hitbox e iscriversi al canale Hitbox abbonarsi al canale Hitbox dove tornerò a fare live molto presto dipende anche appunto da come sta andando il canale poi che cosa vi mostro vi mostro effettivamente che la lunga guerra ad esempio arriva fino all'episodio 123 che è l'episodio ultimo che ho registrato ancora quando ero in Australia e dal 124 in poi appunto continuerà Isaac appunto è lo slot delle 16 momentaneamente che potrebbe diventare quello delle 20 a seconda di quello che mi rispondete appunto con episodi 5 giorni a settimana ho già programmato quelli che sono i dare le dundare fino all'episodio 76 quindi avete dare le dundare ogni settimana fino a marzo e così avete anche i dove sono dove sono gli Indiebox qua ho scritto vlog ma in realtà questo è Indiebox ho registrato gli Indiebox fino all'ultimo che mi è arrivato che è quello di dicembre che uscirà a marzo quindi dovrebbero arrivarmi i pacchi di gennaio e di febbraio insomma per fare l'episodio 16 e 17 per quello li ho già segnati per poter appunto aprire ogni pacco e farvi il giveaway di quella che è la chiave del gioco Steam qua devo ancora stabilire che cosa fare in questo in questo slot qui o meglio so già che cosa fare è una serie lo slot del 2x3 cioè tre episodi per due serie a settimana diciamo che ho scelto di mettere Crash Your Enemies qua sopra perché sono pochi episodi sono 11 episodi e quindi li diluisco un po' di più nel tempo mentre qua farò una serie che avrà magari più episodi non lo so esattamente ma è una cosa che devo ancora registrare e che sto facendo proprio in questo periodo qua quando avrò registrato episodi vedrò di inserire qua e cercherò di mettere una serie che porterò a conclusione prima appunto di cominciare a montarla quindi la registro tutta e poi la comincerò a pubblicare qua dipende perché in realtà siamo a 20 giorni quindi devo prepararmi in anticipo insomma per sapere cosa mettere in questo slot qui come potete vedere anche Darkest Dungeon abbiamo episodi fino al 49 quindi sono andato parecchio avanti con la serie e mi piace veramente tanto registrare Darkest Dungeon perché abbiamo degli atti dei bassi ma quando succedono gli alti sono veramente veramente belli e in punto mi rilassa parecchio poter registrare con Darkest Dungeon nonostante sia un gioco basato sullo stress che cos'altro dirvi appunto per adesso praticamente fino al 26 per dirvi ho tutti gli episodi del giorno mentre appunto sto cercando di spostare sempre più avanti possibile i video pubblicati e fatti vedete che praticamente il prossimo episodio che devo registrare è quello che andrei in onda il primo febbraio quindi cerco di portarvi avanti il più possibile per quanto riguarda i Let's Play Memories appunto queste serie vecchie serie che ho fatto un bel po' di tempo fa che torneranno sul canale devo fare il documentario che mi state aiutando anche parecchio con un bel po' di consigli mi ha fatto piacere tantissimo parlarvi e appunto volevo sapere la vostra qua sotto nei commenti grazie ancora della visione ci vediamo a settimana prossima per quanto riguarda il report del canale e come al solito io sono Ace Brave Namaste and be brave e come al solito parlo e come al solito e come al solito Grazie.